Allora oggi vediamo di risolvere alcune equazioni con coefficienti irrazionali. Allora, incominciamo da questa equazione. Radice di 3 che moltiplica 2 radice di 2 meno x uguale radice di 2 che moltiplica radice di 3 meno x. Devo svolgere prima i calcoli, quindi incominciamo a moltiplicare. Radice di 3 per 2 radice di 2 rimane 2 radice di 6. Ok, poi meno x radice di 3, radice di 2 per radice di 3 fa radice di 6 e poi ho meno x radice di 2. Porto a primo membro questo meno x radice di 2 e diventa meno x radice di 3 più x radice di 2, quindi porto a primo o meno tutte le x e porto a secondo membro il 2 radice di 6 che diventa meno 2 radice di 6. A primo membro ho due termini che non posso sommare perché non sono simili. Allora, quando non posso sommare, raccolgo l'incognita, quindi in questo caso raccolgo la x. Quindi mi diventerà x che moltiplica meno radice di 3 più radice di 2 uguale, e qui sommiamo i due termini e mi rimane meno radice di 6. Siamo pronti per ricavare la x, quindi per ricavare la x devo dividere entrambi i membri per questa parentesi. Così a primo membro mi rimane solo la x, perché questo si semplifica, e a secondo membro ho meno radice di 6 fratto meno radice di 3 più radice di 2. Allora, questa sarebbe la mia soluzione. Meno radice di 6, ho scambiato solo di posto a denominatore, radice di 2 meno radice di 3, che non tengo così, ma razionalizzo. Quindi siccome a denominatore ho una differenza di due radicali, devo moltiplicare sopra e sotto per la somma, e quindi avrò radice di 2 più radice di 2 più radice di 3 sia sopra che sotto, moltiplicato per una frazione, che è come moltiplicare per 1. Ma così facendo a denominatore ho una somma per differenza, e quindi ho radice di 2 per radice di 2 che dà 2, e radice di 3 per radice di 3 che fa 3, quindi avrò 2 meno 3. E sopra lascio indicato un attimino così. Sotto ho meno 1, questo meno 1, questo meno va via col meno, e quindi alla fine mi rimane radice di 6 per radice di 2 più radice di 3. Adesso svolgiamone una con una frazione non fratta, sempre intera, ma che ha una frazione. Anzi, facciamo questa qua, la 560, che mi dice, allora porto davanti la x, x radice di 3 meno radice di 2 fratto radice di 3 più radice di 2 uguale x radice di 2 più radice di 3 fratto radice di 3 meno radice di 2. Allora, qui già posso fare il denominatore comune. Vedo che non posso raccogliere niente, quindi il denominatore comune è costituito da tutte e due i denominatori. Quindi ho radice di 3 più radice di 2 per radice di 3 meno radice di 2. Sia a primo che a secondo membro. Radice di 3 meno radice di 2. Ok, allora tutto questo diviso questo mi rimane radice di 3 meno radice di 2 che moltiplica x radice di 3 meno radice di 2. Tutto questo diviso questo mi rimane radice di 3 più radice di 2 che moltiplica x radice di 2 più radice di 3. Il denominatore lo mandiamo via perché moltiplichiamo entrambi i membri per lo stesso numero che è proprio il denominatore. E adesso facciamo i calcoli, moltiplichiamo. Quindi ho, non è un prodotto notevole, quindi devo fare tutte le moltiplicazioni. radice di 3 per x radice di 3 rimane 3x perché radice di 3 per radice di 3 è come scrivere radice di 3 alla seconda e quindi si semplifica e va via la radice 3x. Poi ho radice di 3 per meno radice di 2 viene meno radice di 6. Radice di 2 per x radice di 3 diventa meno x radice di 6 e poi ho radice di 2 per radice di 2 che diventerà più 2 uguale. Radice di 3 per x radice di 2 diventa x radice di 6. Radice di 3 per radice di 3 diventa 3. Radice di 2 per x radice di 2 diventa 2x e poi ho un più radice di 2 per radice di 2 per radice di 6. Adesso vediamo un po' se va via qualcosa, non mi sembra. Portiamo tutte le x a primo membro. Allora, 3x rimane meno x radice di 6, porterò meno x radice di 6 e poi meno 2x uguale radice di 6 meno 2 più 3 più radice di 6. Allora, sommiamo questo con questo, rimane x. Poi qui ho meno 2x radice di 6 uguale 1 e poi ho più 2 radice di 6. Non posso sommare a primo membro, raccolgo la x. x che moltiplica 1 meno 2 radice di 6 uguale 1 più 2 radice di 6. Divido entrambi i membri per 1 meno 2 radice di 6, sia a primo che a secondo membro. A primo membro posso semplificare e mi rimane la x, a secondo membro razionalizzo. Allora, siccome ho una differenza, moltiplicherò per la somma degli stessi termini, quindi avrò 1 più 2 radice di 6, sia a numeratore che a denominatore. A denominatore mi rimane prodotto notevole, quindi moltiplicherò solo i termini uguali. 1 per 1 meno 2 radice di 6 per 2 radice di 6 diventerebbe 2 per 2, 4 per 6, 24. Sopra, invece, ho un quadrato. Lo posso scrivere anche come quadrato. 1 più 2 radice di 6, tutto al quadrato. Vado avanti a svolgere i calcoli. Allora, il quadrato di binomio lo posso scrivere come? Quindi x uguale. Quadrato del primo, 1, più quadrato del secondo diventerebbe 4 per 6, 24, più il doppio prodotto che sarebbe 4 radice di 6, tutto fratto meno 23. Quindi è uguale a 25 più 4 radice di 6 fratto meno 23. Questo meno lo porto davanti alla frazione e alla fine il risultato è meno, linea di frazione, 25 più 4 radice di 6 fratto 23, che è il nostro risultato, meno 25 più 4 radice di 6 fratto 23. L'ultima ne facciamo, ne scegliamo una fratta come questa qua. Allora, x meno 1 fratto x meno radice di 3 meno x più 1 fratto x più radice di 3 uguale 4 fratto x alla seconda meno 3. Allora, devo fare il denominatore comune. Vedo che posso, devo cercare di scomporre, vedo che l'ultima la posso scomporre come x meno radice di 3 per x più radice di 3, perché 3 lo posso vedere come quadrato di radice di 3 e quindi è una differenza di quadrati. Allora, siccome è un'equazione fratta, devo fare le condizioni di esistenza che mettiamo subito qua sotto e avrò x meno radice di 3 diverso da 0 e quindi x diverso da radice di 3 e poi x più radice di 3 diverso da 0 e quindi x diverso da meno radice di 3. Qui il denominatore comune sono x, le due parentesi, x più radice di 3 per x meno radice di 3, sia primo che a secondo membro, x più radice di 3 per x meno radice di 3 e allora tutto questo diviso questo rimane x più radice di 3 che moltiplica x meno 1, meno. Tutto questo diviso questo rimane x meno radice di 3 che moltiplica x più 1. Qui vanno via tutte e due, rimane 4. Il denominatore lo possiamo mandar via e svolgiamo i calcoli. Allora, x alla seconda meno x più radice di 3 per x x radice di 3 meno radice di 3. Poi, meno, posso già cambiare i segni mentre moltiplico, quindi x per x fa x alla seconda col meno davanti meno x alla seconda. x per più 1 fa più x col segno davanti meno x. x radice di 3 quindi sarebbe meno per meno più x radice di 3 e poi l'ultimo sarebbe meno radice di 3 che diventa più radice di 3 uguale a 4. Qualcosa va via e sono le x alla seconda che vanno via e basta. Ah sì, c'è un radice di 3, radice di 3 e radice di 3. quindi mi rimane meno 2x più 2x radice di 3 uguale a 4. Allora, vedo che ho tutti i coefficienti che sono divisibili per 2. 2, 2, 4. Quindi divido entrambi i membri per 2. E allora cosa diventa? Meno x più x radice di 3 uguale a 2. Questo passaggio si può anche non fare, però conviene farlo perché i calcoli si riducono. Quindi divido entrambi i membri per lo stesso numero che è 2. Posso farlo, me lo permette il secondo principio delle equazioni. Raccolgo la x perché qui non posso sommare, quindi mi rimane meno 1 più radice di 3 uguale a 2. Divido tutto, entrambi i membri, per meno 1 più radice di 3, meno 1 più radice di 3. A primo membro rimane solo la x. x uguale 2 fratto sposto di posto per avere segno positivo come primo elemento. Moltiplico sopra e sotto per radice di 3 più 1. Radice di 3 più 1 fratto radice di 3 più 1 che è uguale. Allora, 2 per radice di 3 più 1 lasciamolo un attimino così. Sotto cosa rimane? 3 meno 1 che fa 2. così 2 e 2 vanno via e mi rimane il risultato che è x uguale radice di 3 più 1 come dice il testo. meno 1 5 meno 1 Grazie.